Sempre Fulvio con me all'interno degli studi di RTL 125 per continuare la nostra panoramica giornalistica in radio, se l'altra volta abbiamo parlato di notizie, stavolta parliamo di GR, giornale orario, notiziario, adesso chiamatelo come volete, esatto, per noi è giornale orario. Ok, e che riassume in quanto tempo più o meno all'incirca? Vuoi una media? Una media, la nostra media è 3 minuti, perché abbiamo edizioni da 2.30 in alcuni casi specifici anche qualcosa in meno, sino ai 6 minuti. Ok, quindi diciamo 3 e in media in 3 minuti quante notizie si riescono a dare? Allora, qui entriamo nella prima specifica, è una scelta, notizie notiziario in radio, come anche in televisione ovviamente, ma parliamo di radio in questo caso, si può fare sostanzialmente in due modi, una lista di notizie che il conduttore legge, oppure un'alternanza di notizie lette dall'anchorman, si sarebbe detto una volta, e servizi esattamente come abbiamo raccontato nel precedente appuntamento. Il nostro stile, la nostra scelta è da sempre un'alternanza. Quindi, grosso modo, nella media dei nostri notiziari riusciamo, fra notizie lette esclusivamente dal conduttore e quelle sviluppate con servizi o in studio o di corrispondenti, 4-5 notizie. Ok, questo anche, immagino l'alternanza legato anche a un fatto vocale, forse questo può agevolare l'attenzione, è vero? Non c'è alcun dubbio, perché la stessa voce, per quanto si stia parlando di giornalisti di straordinaria capacità, lascia perdere, comunque dopo un po' di secondi diventa un tappeto, per quanto ci siano i mille trucchi della lettura, dell'esposizione. Cambiare voce, magari un'alternanza anche uomo-donna, anche questo, solletica l'attenzione, sostanzialmente favorisce l'attenzione. Ovvio i criteri anche qua di posizionamento, prima, seconda, terza, quarta, quinta, può dipendere, non lo so, dall'attualità, che cosa, come lo dici? Attualità, vabbè, l'attualità 99 volte su 100, però noi andiamo in onda o anche la politica, per esempio, c'è una politica cronaca, anche lo sport può essere in testa, l'economia, neanche a dirlo, però tante volte ci è capitato di aprire, si dice in gergo, un giornale orario con lo sport, se in quel momento, noi andiamo in onda 24 volte al giorno, una volta all'ora, evidentemente, rigorosamente in diretta. Quindi se aprissimo per 24 edizioni, sempre con la stessa notizia, fatto salvo l'ascolto ciclico della radio, il rinnovamento continuo dell'ascolto nell'arco di un'ora, ma comunque non sarebbe possibile. Le fonti di approvvigionamento possono essere oltre che le classiche agenzie, quindi Ansagi, Ansagi, non so, che cos'altro, per esempio, da dove peschi. Agenzie, siti, siti di informazione e poi la grande novità di questi anni, ossia i social. Ok, anche lì si pesca. Non c'è alcun dubbio. Adesso un esempio di un giornale orario andato in onda quest'oggi, insomma, è indifferente, volevamo capire A, la scelta delle notizie, la commentiamo alla fine e poi anche lo stile della conduzione, fatto salvo quello che dicevi tu, cioè l'alternanza comunque. E lo capirete subito, no, no, assolutamente. Guarda, allora, partiamo, facciamo conto che sia questo mercoledì mattina, quindi non vi darò neanche la data perché non è quello l'importante. È mercoledì, buona giornata da Fulvio Giuliani, subito la cronaca perché purtroppo si è registrata una vittima della valanga che ieri in Svizzera ha travolto un gruppo di sciatori. Ascoltiamo il nostro Giovanni Perria. Ecco, qui un collega appunto in studio con me, ma in un'altra postazione, legge il pezzo come abbiamo raccontato nel... Scelta, scusami Fulvio, ti interrompo, in questo caso c'erano dei morti, no? Sì, la cronaca, la cronaca è spessissima in apertura nei nostri giornali orari perché sono notizie di grande impatto, sono ovviamente legate a fatti appena accaduti. Alla fine del pezzo, riparto io, il ministro dell'interno Matteo Salvini, siamo alla politica, questa mattina ha intervistato il Nostop News su RTL 125, ha smentito di voler creare un gruppo unico con il Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio. Salvini stesso è tornato sull'inchiesta poi che ha portato agli arresti domiciliari i genitori di Matteo Renzi, ha dichiarato di non avere nulla da festeggiare e di voler sempre vincere con le proprie idee. La giornata in borsa che oggi è negativa, in questo momento il Fuzi Mib è meno 0,27% e siamo allo sport, parliamo di calcio per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, la Juventus affronterà in trasferta alle 20.45 l'Atletico Madrid, ascoltiamo il nostro inviato. E qui appunto il nostro inviato Paolo Pacchioni nello specifico a Madrid ci racconta l'attesa della partita, naturalmente dando per scontato gli elementi fondamentali che abbiamo già ricordato in studio. Volendo avresti potuto inserire, ti dico per ipotesi, perché magari ci avrai pensato fino all'ultimo e dire beh dopo magari la notizia politica inserisco qualcos'altro, è un qualcosa che avviene all'ultimo momento. Questo può sempre capitare perché mentre andiamo in onda rigorosamente in diretta, abbiamo le agenzie, accade qualcosa, si cambia la scaletta. Io devo stare in questo caso nei 2 minuti e 30 secondi di questa edizione e quindi considerata la durata dei due pezzi che ho lanciato, la cronaca e lo sport, non ho spazio per altro. Certo.